Let's play! Vederemo una per volta Ovviamente vi direte Cioè ovviamente ognuno ha la propria opinione Prima cosa rispetto a tutti quelli che fanno le culture ma Quindi anche se dicessi che fanno schifo non offendeteli perchè Cioè E' un analizzatore serie Quindi se fa schifo fa super basta Allora Poi Un'altra cosa Noi il 25 aprile staremo al comicon Quindi se volete Incontrarci basta che Il 25 aprile mentre stare al comicon Ci mandate un messaggio su whatsapp Su facebook Mandarci un messaggio su facebook Ehm Vi risponderemo e ci metteremo D'accordo dove E' come incontrarci Ehm Vabbè possiamo iniziare Benvenuto Ciao Benvenuto su la Su la Vabbè Ehm potrebbe aver semplicemente sbagliato La mappa The fernal joke Leggi le regole per capire cosa non devi fare Regole Non ho Non ho per le blocchi Non lo sarei E sarei Oh Il mio crack non lo faccio vedere Ma non perché non vuole Perché se la mappa Ci sia schifo Poi potreste andare sotto Allo suo video e dire Fa schifo la mappa E mi tutta No Non so Solo per quello eh Cioè non Non mi interessa Perché se la mappa Sarà bella Giuro Giuro Scliccherò questo bottone Play Ok questo dovrebbe essere un quiz Chi ha creato manca? Ah almeno Ha uscolata Erobrai Notch Mojang Notch Bravo Con l'acqua Con l'acqua Con l'acqua Con l'acqua Quale blocco Non si può prendere Dalla creative Blocco dello slime Design No è roba Blocco comando Blocco D Blocco D Io so che non si possa prendere Il blocco D Cos'è? Il blocco D Mi ha fatto spawnare di nuovo qua Perché mi ha fatto spawnare di nuovo qua? C'è due palle Vabbè Play Notch Allora Questo non è Questo Dello slime Dello Non è? Non comando Bravo Poi Eh vabbè Erobrai E' stato mai messo in Minecraft? Si Sbagliato Perché non è mai stato messo Questa Si Ma sono tante in versioni speciali Quindi solo in mod E così così Questa No ma sono in versioni speciali Eh? Cioè questa e questa Hanno lo stesso significato Si Hanno messo Erobrai Ma solo in mod No In Minecraft Ma soltanto in versioni speciali E' mo' No Una gara Già Che Che l'italiano Fa schifo Più mi mette le risposte uguali Qui Oltre che sento lava Questa Questa E invece nooo Non è questa Eh Rifacciamo tutto da capo Lei Quando Ah non è questa Eh E' finito il quiz Oh e che quiz Direi Qua c'è il parkour Che odio perché Non metto sempre il parkour Nelle mappe Non mi fa spawnare nulla Non mi fa Mi sa che non vi farò vedere il suo canale Mi sa proprio di no Mi sa proprio Di no Mi sa proprio Di me C'è un po' di merda E che io faccio Caricare i cani morti I cani morti Di Dalking dead Madonna ragazzi Ma muoio di nuovo Odio la vita Odio la vita Da Minecraft piano Con questo Parcour di merda Sono inutili Perché li mettete Per favore Per quelli Come me Senza mani Il parcour È una cosa orribile Non li mettete Non li caccia Di custom map E vatese il parcour Denunciateli Al VWF Vi denuncerò Voi che mettete Il parcour di merda C'è un citt... Oh Via È finito il parcour Moooo Tu Cosa sta succedendo? Eh non lo so Io dico Cosa sta succedendo Oh Oh Armature Armature Metti com'è Wow Signore Lei deve scompirci Il boss L'equiposimento è lì Sì L'ho già Il boss Sì Un boss C'è uno zombie Mega gigante No Non farmi pensare A ciò che sto pensando Se è veramente Il boss è quello Se è veramente No Ciao forestirio Stelto nel boss È là Giù È là giù Avvillico C'è un bambino È morto Quindi No Lo dice lo stesso Comunque Anche se è morto Eh Vabbè Survival mod Eh Boh Te l'ho a caso Vai Avvillico 50 Via Via Con le porte Giustamente No È ciò che pensavo Ha fatto veramente Farsi che il boss Si è Il drago dell'endo Che fantasia Vedete Questo ragazzo qui O un bambino O quello che è Ha una fantasia Veramente Molto Stretta C'è Io È vero che Non ho fantasia Però Amore mio Tutti Se mi sono un po' male Giusto Mi sono veramente Ma male Mi piace per te Veramente Aspettate Ora che ci penso Perché sono Nonato lì Si seco Salgo Si rompo E come scendo Come scendo Eh vabbè Saliamo Intanto saliamo Salgo C'è Se mi sono Una Scusate Una Pottiglietta D'acqua Un secco D'acqua Che adesso Almeno Scusate Lende Per Come cacchio Scendo No No Ciao ragazzi No Questa Appa E no Ciao No 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 Grazie a tutti.